L'effetto Gregg è una cosa fortissima che hanno le persone a seguire le altre nel momento in cui le altre cominciano a scappare da un presunto pericolo e questo effetto è molto spesso fonte di problemi più che altro, perché le persone inferiscono dalle altre che c'è un pericolo e quindi si tende a scappare, però le persone stesse che stanno scappando spesso succede che non sanno bene dove andare, non sanno qual è il modo migliore di muoversi e quindi succede spesso che questo effetto Gregg crea una calca, un aggruppamento di persone verso le uscite di sicurezza che porta poi a degli schiacciamenti, a delle compressioni soprattutto della cassa toracica che è appunto una delle prime cause di morte purtroppo in questi avvenimenti tragici, quindi non si muove per il pericolo iniziale, ma quanto poi per la compressione della calca nel momento in cui si intenta di uscire. A suo avviso, che cosa si può fare o che cosa si dovrebbe fare in casi del genere? Il punto chiave, la cosa da tenere a mente è che il semplice atto di scappare è un pericolo di per sé, perché appunto è proprio il momento in cui si resta schiacciati, quindi bisogna valutare bene se è il caso di seguire gli atti, cercare di scappare o semplicemente cercare di mettersi a sicuro rimanendo dove si è.